Ciao, un saluto dal vostro Scream Sensei. It's time! Adesso vediamo cosa riesco a colpire. It's time! Forza, forza! Pronti! Qua lo dico e qua lo confermo. Se arriviamo, non dico tanto, a 5.000 views, questo diventa rosso. Chiopasso! Cina a tutti! Cina, cina! Cina di queste views! Se arriviamo a 5.000 views, mi faccio piondo! Nessun uomo è stato maltrattato per realizzare questo video. Esatto, solo donne. Faccio il CIN così, così nessuno pensa che sono commerciale. Comunque abbiamo fatto, abbiamo abbattuto la barriera dei 1000 iscritti. Quindi prendiamo anche quella che sarà la svolta di Scream Studios, a quello che diventerà dai 1000 in poi. Esattamente, diventerà un canale di YouPo... Ehm, no? E comunque sì, perché tanto avrei fatto lo speciale dicendo le classiche cose che si dicono negli speciali, ovvero grazie a tutti per gli iscritti, bla 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 bla, ma non lo farò, ovviamente. Mamma mia! Sì, vediamo il I.V alignerato. Ehi. No, esci, cazzo. No. Aspetta, aspetta, aspetta. No. Dai, fai seppucu in diretta, così faccio il botto di visual. Dicevamo. Ma è che parezza, in grado. Torniamo un attimo nel momento serietà. E Pasquale se ne va. Tra la lera, tra la la. eccolo qua a meno che io sappia però me lo vedo abbiamo fatto un po' di confusione o sbaglio? a me diventerai mamma nel momento in cui non si è incinta di sodo il buongiorno dice a Jessica Jessica lo manda a cagare super giù funziona così normalmente comunque vuoi fare da romper stare Aiden è diventato il mio manager sistema la cravatta il cappio quindi adesso dovremmo fare più cover nostre video react analisi dei cantanti che farai tutto tu ovviamente sempre no deciso che li fai tu queste qui saranno le novità che dovrò fare quindi praticamente non ci vedremo mai più sappilo ciao addio sono sempre tanto che le cose ciao volevo festeggiare con voi i mille iscritti sul canale come? facendovi un regalo voglio dare a tre di voi la possibilità di vincere una maglietta di Scream Studios un cappellino oppure una lezione gratuita insieme a me come riuscire a vincere questi tre premi semplicissimo basta andare su instagram e fare una stories taggando Scream Studios mettendo l'hashtag Scream Sensei mettete pure una vostra foto in posa da metallari e io vi selezionerò tra quelli che hanno partecipato mi raccomando spero che anche questo video vi sia piaciuto lasciate un like e un commento qua sotto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video stay metal